questo è così Vito! Crosta! Portoferrai è lontano da qua? è lontano sì? allora anche un po' di meno da Portoferrai quel pezzo che abbiamo passato qua è bello rima al mare perché tanto se ci aspettano a Portoferrai come fanno? è porto azzurro! quando ne andiamo? eh ma qui dove eravamo prima 14 15 km sono la trentina è da qua una venticinquina, una venticinque dai poi dopo c'è Crosta che è più volace della luce dobbiamo rifare tutta la strada che abbiamo fatto adesso più un vententino lo so che è così per tornare di là dopo? è il diablo tanto non c'è problemi perché c'è Crosta Crosta va così veloce che raddrizza tutte le curve Crosta rincazzata poi il primo giorno mi piace poi dopo dopo ha fatto oh Vito come sono rotte le scatole sta aspettando sempre il diablo tocca sta aspettando sempre il diablo change the road car seat e basta ma non ci venite più e basta oh Crosta li fa nessuno li distrugge ho perso meno 3 kg ho perso meno 3 kg sta come respira la moto senza valigio sta avrezzata ma vediamo perché io ho visto il da sera prima questa passione è vero è vero io do